Con un decreto il TAR ha accolto il ricorso dell'Associazione Sportiva di Lettantistica Virtus Battipaglia Calcio, associazione che gestisce lo stadio Passena Battipaglia. Il club, presieduto da Rosario Fortunato e che gestisce la struttura sportiva che ospita la Battipagliese e altre società ed associazioni sportive dal 2017, ha contestato e ottenuto lo stop alla revoca, con effetto immediato della gestione e dell'utilizzo dello stadio Passena, disposta venerdì scorso dall'amministrazione comunale, capeggiata da Cecilia Francese, proprio per favorire la realizzazione dei lavori che dovranno essere conclusi entro fine anno, Pena la perdita del finanziamento PIX. Nell'emore della trattazione dell'istanza cautelare e nei modi ordinari sussistono le prospettive ragioni di estrema gravità di urgenza, tali da consentire la favorevole deliberazione dell'invocata tutela monocratica. Si legge nel decreto che, oltre ad accogliere il ricorso, ha fissato la Camera di Consiglio per il prossimo 22 novembre. La comunicazione della sospensiva è stata immediata e già a metà mattinata ieri la decisione del TAR è arrivata in via Barassi, dove gli addetti della TPS, l'impresa che dovrebbe eseguire i lavori, stavano effettuando le operazioni preliminari, con l'ausilio di una ruspa ed è stata rimossa una prima parte del Tartan, il materiale sintetico di cui sono composte le piste d'atletica. A rischio quindi il finanziamento per il rifacimento dello stadio Passena, ma bisognerà attendere il 22 novembre per comprendere cosa accadrà e se il TAR si pronuncerà nel merito. E si spera che poi i lavori possano riprendere e terminare entro il 31 dicembre, quando tutti i comuni che hanno ottenuto soldi dai PICS dovranno terminare le opere.